Non è arte fiera se non passa anche lei dottor Montezembo in un appuntamento che credo che le piaccia molto? Mi fa piacere nel vedere che dopo un periodo di appannamento, diciamo così, quest'anno vedo una nuova energia ma soprattutto vedo finalmente una selezione, io sono per la qualità più per la quantità. E questo mi sembra che stia avvenendo e quindi sono soddisfatto perché lo ripeto la sento una cosa molto vicina, vengo sempre volentieri. Voglio solo sapere che cosa le piace di questo momento artistico del mondo, che cosa guarda, che cosa la incuriosisce? Guardi io sono prima di tutto un collezionista e quindi essendo un collezionista ho passione in diverse direzioni. Quest'anno ho visto qualche cosa interessante, ho visto un bellissimo quadro di longo di una donna con il burka, meraviglioso. Ho visto qualche bella fotografia, ho visto qualche retrospettiva, però mi sembra, a me piace logicamente l'arte contemporanea, in particolare io sono un collezionista di pop art americana e italiana e quindi bene, sono contento. Grazie. Grazie.